Proseguiamo la nostra panoramica sulle componenti che partecipano al processo di scatto parlando dell'elemento principe della fotografia digitale ossia il sensore, quindi quella componente che ha sostituito in tutto e per tutto la pellicola fotografica. Il sensore infatti è l'elemento sulla quale la luce imprime le proprie informazioni e dalla quale poi verrà elaborata la nostra fotografia. Questa componente si trova all'interno della nostra fotocamera più precisamente sul piano focale, come puoi vedere nelle immagini di forma generalmente rettangolare ed è costituita in silicio. La trasformazione della sorgente luminosa in immagine viene fatta grazie alla trasformazione di questo segnale in un segnale elettrico grazie all'azione di fotodiodi. Infatti il sensore non è una componente unica ma è formato da milioni e milioni di piccole unità che sono chiamate i pixel. Ogni pixel poi di per sé è formato da tante piccole altre unità con all'interno appunto questa unità principe che viene chiamata fotodiodo dove avviene praticamente la trasduzione del segnale dal luminoso ad elettrico. Quindi in poche parole cosa succede? I fotoni che sono contenuti nella nostra sorgente luminosa quando copiscono il pixel e più ovviamente questo fotodiodo vengono convertiti in una corrente elettrica e quindi si generano praticamente degli elettroni. Tutti gli elettroni che si liberano da queste informazioni luminose vengono raccolti all'interno dei pixel e vengono convertiti in una scala di grigio. Infatti il sensore di per sé non è capace di leggere e di dare comunque il colore a un'immagine e viene fatto grazie a un filtro che viene applicato davanti al sensore. Di solito viene applicato un filtro chiamato Bayer. Come puoi vedere anche dall'immagine questo filtro è costituito da altre piccole unità quindi da altri pixel che sono rossi, verdi, blu e poi di nuovo verdi. Quindi il verde viene usato due volte perché si cerca comunque di imitare la visione umana visto che il verde è il colore che noi vediamo meglio di tutti. Ora che abbiamo capito a grandi linee come è fatto un sensore e come funziona andiamo ad analizzare le caratteristiche principali di questa componente. La prima in assoluto è sicuramente le dimensioni del sensore. Se prima nella fotografia analogica avevamo un unico formato che era quello della pellicola che era appunto 24x36 adesso con il sensore nella fotografia digitale abbiamo una grande differenziazione di formati e questo è dovuto alle diverse dimensioni del sensore. Come puoi vedere anche da questa rappresentazione abbiamo una grande differenziazione del sensore per quanto riguarda le dimensioni d'immagine. La differenziazione delle dimensioni del sensore come vedremo poi più avanti nel corso delle lezioni ha un grande impatto su diverse variabili. Ma ora analizziamo un altro aspetto. Un sensore di dimensioni minori a parità di pixel dovrà avere appunto questi elementi, questi pixel che sono di dimensioni minori rispetto a un sensore di dimensioni maggiori. Per farti capire se noi abbiamo per esempio un sensore di un centimetro per un centimetro con all'interno 10 pixel e vogliamo all'interno di questo sensore metterci altri 10 pixel quindi raddoppiare il numero di pixel totali ovviamente cosa dobbiamo fare? Dimezzare la dimensione di ogni pixel in modo tale da farci registrare tutti. Ma cosa vuol dire se noi andiamo in termini pratici se noi andiamo a diminuire le dimensioni di quei pixel? Come abbiamo visto prima i pixel sono quegli elementi che raccolgono le informazioni luminose ma se noi abbiamo dei pixel più piccoli vuol dire che ogni singolo pixel potrà contenere meno informazioni e meno informazioni si traduce in una minore qualità di immagine e in un aumento del rumore digitale. Il rumore digitale adesso analizziamo molto brevemente poi lo vedremo più avanti è una caratteristica, un difetto visivo che si può vedere nella fotografia soprattutto in quelle con scarsa luminosità e si è costituito praticamente come puoi vedere da una sottile grana che si sviluppa su tutta la superficie quindi sembra quasi una fotografia anticata ma non è quello l'effetto è semplicemente appunto questo rumore digitale che come puoi vedere è chiaramente antiestetico quindi se noi andiamo a ridurre le dimensioni dei pixel potremmo andare incontro a questo fenomeno qua quindi a questo rumore digitale ovviamente una minore qualità di immagine quindi si traduce in un minore contrasto in una minore definizione in una minore nitidezza. Un'altra caratteristica che è molto sponsorizzata dalle case madri e che sicuramente conoscerai è il numero di megapixel. Il megapixel è praticamente un'unità di misura digitale e significa un megapixel uguale a un milione di pixel quindi se per esempio abbiamo una fotocamera con un sensore da 20 megapixel significa che al suo interno ci saranno 20 milioni di pixel. Ugualmente se per esempio vogliamo ricavare il numero di megapixel del nostro sensore partendo da una fotografia se per esempio abbiamo una fotocamera che scatta fotografie con un lato lungo da 2000 pixel e quello corto da 1000 pixel vuol dire che al suo interno avremo 2 milioni di pixel e quindi una fotocamera a bassissima risoluzione perché avrà solo 2 megapixel. Ora spero che non ti crolli il mondo addosso ma ti assicuro che il numero di megapixel è importante sicuramente ma non è così importante come le dimensioni del sensore e ora ti spiego subito perché. Il motivo è molto semplice esattamente come abbiamo visto prima qual è l'unico modo di aumentare la quantità di megapixel lasciando invariata la dimensione del sensore? Semplicemente quello di ridurre la dimensione dei pixel in questo modo riusciremo a far entrare più pixel all'interno dello stesso sensore. Un'altra caratteristica invece può essere anche quella di avvicinare i pixel ma i pixel più vicini aumentano il rumore digitale perché interagiscono tra di loro, gli elettroni in esso contenuti interagiscono tra di loro creando queste cariche e quindi aumentando il rumore digitale. Se ci pensi bene è un processo abbastanza ovvio se no una fotocamera per esempio non mi spiegherei come un cellulare con 20 megapixel faccia delle foto assolutamente inguardabili rispetto a una reflex con 20 megapixel perché il concetto è proprio nelle dimensioni del sensore. Il sensore della reflex è di molto maggiore di dimensione rispetto a quello di una compatta o quello di un cellulare. Quindi non ti far ingannare quando andrai comprare la tua fotocamera sul numero di megapixel perché non vogliono dire assolutamente niente. Detto così bisogna guardare il numero di megapixel rapportato alle dimensioni del sensore ma è più importante avere un sensore di dimensioni maggiori piuttosto che un sensore di dimensioni minore pieno zeppo di megapixel perché andremo solo incontro a un peggioramento della qualità di immagine e un aumento del rumore digitale quindi di quella grana che viene a formarsi su tutta la superficie della fotografia e che difficilmente si può togliere in post produzione. Detto questo andiamo ancora un attimo ad analizzare una caratteristica dei sensori quindi le varie tipologie dei sensori che sono presenti adesso del commercio per concludere questo argomento. Ma ricordi che le nozioni principali di questa lezione sono per l'appunto la dimensione del sensore e il numero di megapixel e il loro rapporto. Quindi pensa bene a questa variabile. I sensori che sono presenti adesso nelle nostre fotocamere sono essenzialmente di due tipi. vengono chiamati CCD e CMOS. Si sono sviluppati esattamente più o meno negli stessi anni intorno agli anni 60-70 ma hanno seguito percorsi di crescita nettamente diversi. All'inizio il CCD era presente in larga scala e il CMS è praticamente sparito. Ai giorni nostri si è praticamente ribaltata la situazione quindi il CMS è presente in larga scala sulle nostre fotocamere e il CCD è presente principalmente nelle fotocamere medio formato in alcune e nelle altre classi compatte o bridge ma comunque è molto più raro rispetto al CMOS. Ovviamente come spesso avviene questo è dovuto a ragioni esquisitamente economiche. Prima era più difficile e più costoso produrre il CMOS, con lo sviluppo della tecnologia si è ribaltato alla situazione il CMOS è più economico e quindi viene prodotto in larga scala. Il funzionamento di questi due sensori è nettamente diverso. Ovviamente entrambi vengono azionati tramite fotoni e si liberano questi elettroni all'interno dei pixel. Solo che nel CCD gli elettroni migrano verso la base del sensore. Abbiamo visto che i pixel sono ordinati su diverse linee all'interno del sensore e vengono praticamente trasferite le immagini fotoni verso il basso tramite le variazioni di voltaggi. Così le informazioni vengono amplificate e poi al fine convertite in segnale analogico. Nei sensori CMOS invece una volta che gli elettroni sono eccitati dai fotoni non migrano verso il basso saltando di linea in linea come avviene per i CCD ma vengono raccolti tutte le informazioni all'interno del pixel e successivamente il segnale dei singoli fotociti quindi dei singoli pixel viene raccolto direttamente e viene trasformato poi in dati immagine. In questo caso quindi si usa un segnale digitale. Puoi vedere questo diverso funzionamento dei sensori anche in questa animazione dove è chiaramente visibile la migrazione delle informazioni nel sensore del CCD verso il basso mentre il CMOS converte subito il segnale dall'analogico al digitale all'interno del pixel. Ovviamente questa differenziazione di comportamento ha delle repercussioni per quanto riguarda le caratteristiche di ogni singolo sensore. Qui sono raccolte tutte le caratteristiche principali e differenze principali tra il CCD e il CMOS. Diciamo che le caratteristiche che derivano dal funzionamento del sensore sono essenzialmente che il CCD consuma parecchia energia in più rispetto al CMOS nell'ordine di circa 3 volte in più perché ovviamente deve sprecare l'energia trasferendo continuamente queste informazioni verso il basso mentre il CMOS le trasferisce direttamente e quindi salta molti passaggi e quindi consuma molta e meno energia. Di fatto invece il contrario, diciamo, dal lato opposto della medaglia è il fatto che il CMOS, convertendo tutto all'interno diciamo del pixel, quindi in generale ogni singolo pixel, quindi un amplificatore, degli elementi in più che non sono più presenti nel CCD e quindi si ha un aumento della temperatura all'interno di ogni singolo pixel. Questo aumento della temperatura può causare e quindi aumenta il rumore digitale, quindi questo vuol dire che il sensore CMOS è più suscettibile al rumore rispetto a un CCD. essenzialmente è per questo motivo perché comunque le informazioni vengono raccolte all'interno di ogni singolo pixel, si hanno più elementi che lavorano e quando si hanno più elementi che lavorano ovviamente si ha un sull'escaldamento generale del sensore e questo porta a un rumore digitale. Poi tutte le altre caratteristiche sono ovviamente anche il CMOS è più veloce rispetto al CCD, lo abbiamo già visto prima perché il trasferimento avviene direttamente dal pixel senza tutti i passaggi di traslazione verso il basso e poi le altre che abbiamo generalizzato, quindi i CCD realizzano un'immagine di più alta qualità rispetto al CMOS perché ovviamente abbiamo questa diminuzione del rumore digitale e il CCD abbiamo detto che è più costruoso del CMOS ma essenzialmente per processi di costruzione ed è quindi ovviamente meno presente nelle nostre fotocamere perché costando di più non conviene ai dite costruttici produrlo. Ti ricordo che il CCD è presente infatti all'interno delle fotocamere medio formato che infatti restituiscono una qualità di immagine molto migliore rispetto alle altre. Questi copi macchina medio formato costano però migliaia e migliaia e migliaia di euro quindi ovviamente non sono dei copi macchina destinati a degli amatori ma sono destinati a dei professionisti quindi nella maggior parte dei casi tu avrai che fare nella tua fotocamera con un sensore CMOS che quindi è molto veloce ma è un po' più suscettibile al rumore digitale per via di questo aumento della temperatura. Bene anche con questa lezione abbiamo finito mi rendo conto perfettamente che queste lezioni sono sicuramente un po' noiose perché parlano di aspetti prettamente tecnici e non dell'arte del fotografare ma ti assicuro che è assolutamente fondamentale che tu conosca le caratteristiche di ogni singola componente che è presente nell'interno della tua fotocamera perché ogni variabile influenza il processo di scatto come poi vedremo più avanti che accoggerai nel corso di queste lezioni tutti questi fattori sono collegati l'uno all'altro e quindi ci vuole una conoscenza generale di tutto quello che riguarda la fotografia. Ci vediamo nella prossima lezione